Un cordiale saluto gentili amici e amiche all'ascolto per quanto riguarda il nostro spazio quotidiano dedicato all'informazione dal Friuli Venezia Giulia. Tre mesi di appostamenti, decine di ore dedicate alle indagini e al fine il mistero è stato chiarito. Quel sangue presente in un'area della campagna circostante, la zona del Friuli Collinare, proveniva da un'attività abusiva di smaltimento. Sono stati i forestali del NOAVA, il nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale del Corpo Forestale Regionale, in collaborazione con la Polizia Locale, a scoprire i fatti e i responsabili. Due persone denunciate alla Procura di Udine per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti costituiti dal sangue animale e per violazione alle norme sulla responsabilità amministrativa della società. Molto probabilmente ai soggetti indagati verrà imposta la rimozione del materiale smaltito e ripristino dello stato dei luoghi. Con un finanziamento di 3 milioni di euro ricevuto dalla Direzione Centrale Risorse Agricole, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha realizzato un particolare impianto di irrigazione per servire il comprensorio irriguo paludo nel comune di La Tisana. I terreni privi di risorsa idrica con il nuovo impianto saranno coperti dal servizio anche in caso di siccità. Già prima del suo completamento l'impianto ha offerto nella scorsa stagione la possibilità di irrigare una piccola frazione del comprensorio. Ora si potranno servire circa 370 ettari, mentre in futuro la stazione di pompaggio coprirà ben 680 ettari, in gran parte di semi nativi ma anche con colture specializzate. Cerca, prenota, cedi. Ad accompagnare il nome della nuova app Eilo, disponibile dal primo giugno, c'è una promessa di semplicità per poter aiutare i cittadini, ma soprattutto ristoratori, baristi, parrucchieri, estetisti, operatori del turismo, a gestire le prenotazioni e gli accessi, evitando sovrapposizioni e assembramenti. In questa fase 2, che li vedrà presto tornare al lavoro dopo due pesantissimi mesi di lockdown, a presentarla, a supportarne la via, a promuovere l'utilizzo gratuito nella Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in collaborazione con Conf Commercio e Conf Artigianato. Siamo dinanzi ad una crisi congiunturale, una crisi congiunturale veramente pesante. Da questa crisi noi ne possiamo e ne dobbiamo venire fuori. Come? Innanzitutto costruendo le fondamenta. Le fondamenta sono la liquidità alle imprese e all'intera Italia. Liquidità, fondi, 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 per costruire le fondamenta e riprogettare, programmare quella che sarà l'Italia nei e fra dieci anni. Questo è quello a cui ci dobbiamo interrogare. Lo dobbiamo noi stessi, lo dobbiamo i nostri figli e i nostri nipoti. E certamente tutti insieme ce la faremo. Assessore Gibelli, il Consiglio regionale oggi ha approvato un importante provvedimento per due settori molto colpiti dall'emergenza Covid, la cultura e lo sport. Quali sono i vantaggi per il territorio, per i figli di Venezia Giulia? Il vantaggio è che stiamo lavorando tutti insieme, noi e le imprese culturali creative e il mondo dello sport, per evitare che ci sia nella nostra regione un pericolo di desertificazione culturale e anche di impoverimento sportivo. Sono tutte misure che non aggiungono costi, ma che razionalizzano gli investimenti già fatti con i bandi e con le graduatorie di merito, sottolineo, che ne sono scaturite. Devo ringraziare anche per altri provvedimenti collaterali a questo DDL, che sono stati assunti sia dalla conferenza delle regioni e portati in conferenza Stato-Regioni con i ministri Franceschini e Spadafore, che hanno prodotto misure anche nazionali importanti e per le cose che abbiamo fatto noi, per le cose che siamo riusciti a fare come regioni nei confronti dello Stato e del Governo, devo ringraziare onestamente il Presidente Federica, che ha capito che le imprese culturali creative e anche il mondo dello sport, lì non posso parlare di imprese perché sono associazioni sportive dilettantistiche, però che sono imprese e quindi hanno tutti i problemi che hanno tutte le altre piccole e medie imprese con l'aggravamento del fatto che hanno dei bilanci più fragili. Il Presidente ha colto questo aspetto, l'assessore Rosolaine già in prima battuta aveva inserito per la sua parte di confronto col Governo l'inserimento dei lavoratori di queste imprese culturali creative nell'ambito dei cassi integrabili e quindi siamo riusciti agendo su più fronti a comporre un quadro che non posso definire di tranquillità, perché in questo momento nessuno di noi è tranquillo, però a mettere insieme la possibilità di traguardare questo periodo.